OACIMILAN E ho notato che è molto più informato lui e dibatte molto più lui sui nuovi acquisti del Milan rispetto ad un tifoso normale Per chi non avesse fatto caso a questa cosa, ogni volta che il Milan fa, e ultimamente è successo molto spesso, ogni acquisto del Milan Lui pubblica la foto del nuovo acquisto del Milan, scrive il suo pensiero sotto, tipo Fodeballo Touré è arrivato, gli ha fatto i complimenti, dice che è un buon giocatore con determinate caratteristiche Niente, ha una voglia, ragazzi, Baccaio Coso, ha una voglia di Milan che è incredibile Non lo so se arriverà, ragazzi, ovviamente sto scherzando, non so se arriverà il Milan e si troverà la quadra Ovviamente l'ostacolo più grande quando si tratta di Baccaio Coso è sempre lo stesso, che si piglia 7 milioni di euro di stipendio Ed è, se non ricordo male, l'ultimo anno di contratto con il Chelsea Quindi è ovvio, ragazzi, che il Milan per andare a prendere, ieri parlavamo di Pobega come quarto centrocampista Quarto, quinto centrocampista devono essere giocatori, visto che comunque dobbiamo ancora andare a fare gli acquisti più importanti Che ricordo a tutti, sono il trequartista, adesso abbiamo buttato le basi per quella che è la nostra squadra Quindi adesso abbiamo preso tutti i backup, abbiamo preso tutti i giocatori presi nel modo giusto, al prezzo giusto e nel modo giusto Adesso vanno presi i giocatori più importanti, quindi il trequartista e l'esterno destro di attacco Quello poi è un discorso un po' a parte Quindi, per chiudere il discorso su Baccaio Coso, l'ho trovato molto ferrato sull'ambiente Milan E su tutti i giocatori che verranno al Milan Se poi lui, e chiudo, se poi lui verrà al Milan o non verrà al Milan Si tratta solo di una questione, tra virgolette, economica Allora, volevo partire da questa cosa qua Dopo andiamo in sigla Vi parlo di questa cosa e poi dopo facciamo tutto un discorso Oggi ovviamente parliamo anche di Caio George Ragazzi, come avrete intuito dal titolo, il Milan ha fatto un'offerta E pare proprio che siamo proprio vicini Così scrivono i media, eh, scrivono i media Non è roba mia che arriva dall'interno Assolutamente no, leggo Vi sto riportando quello che scrivono i media Pare che il Milan abbia fatto l'offerta E siamo vicino alla chiusura per prendere il giovane e talentosissimo Tifoso rosso-nero, non lo sappiamo Sicuramente il talentosissimo giocatore brasiliano Volevo leggervi questa cosa, ragazzi, prima di andare in sigla Milan sotto accusa il mercato di Leonardo In casa Milan è ancora sotto accusa il mercato di Leonardo fatto qualche anno fa Tantissimi i flop acquistati dall'ex dirigente Partendo da Higuain, passando per Piontek, Laxalt e Caldara Ultimo flop anche dal mercato estero come Paquetà E balla sul filo del burrone la valutazione di acquisto fatta a Castiglieco Arrivato al Milan per una cifra esorbitante, per le cifre di adesso, di 21,5 milioni di euro Con qualche folata e troppe prestazioni ancora sotto tono Allora, quando si tratta di Castiglieco Poi andiamo in sigla, ragazzi Quando si tratta di Castiglieco c'è da dire una cosa Bisogna scindere quello che è in campo Castiglieco E quello che è lui come persona Lo so che voi da tifosi dite Anch'io da tifoso potrei dire Ma a me, se lui è un bravo ragazzo, non me ne può fregare meno Però in campo, quando va in campo, non mi dà prestazioni da AC Milan Ok, liberissimo ovviamente di pensarlo La cosa che però volevo portare avanti E mettere un po', diciamo, davanti alla faccia di tutti Davanti agli occhi di tutti è questa Comunque, Casti è un bravissimo ragazzo È un giocatore che non si è mai tirato indietro È un giocatore che quando c'è da correre, da fare, da sudare, lo fa Poi ovviamente, ragazzi, Castiglieco è Castiglieco Riporto, come ho detto prima, di fronte ai vostri occhi L'esempio che io faccio su questo canale da una vita Poli è un pony Poli non diventerà mai Vi ricordate la famosa storia di Poli Pony Pony, l'ex giocatore del Milan, è un pony Non diventerà mai un cavallo da corsa E in questo caso, Castiglieco è anche lui un pony È un bellissimo, buonissimo giocatore Ma non diventerà mai uno ziek Non diventerà mai un chiesa Non diventerà mai un giocatore di quella portata lì Perché ognuno ha le proprie caratteristiche Lui non diventerà mai quella tipologia di giocatore Perché vi ho voluto dire questa cosa di Castiglieco? Ho letto ultimamente online molte critiche Molte critiche al giocatore Anch'io l'ho criticato ragazzi Quando c'è stato il periodo di criticarlo Anch'io l'ho criticato e sicuramente non mi rimangio le parole che ho detto Però ragazzi andare a criticare lui come giocatore è una cosa Il rispetto per quella che è la persona E arrivo lì che è la cosa più importante Gli insulti personali a Castiglieco Per cercare di convincerlo ad andare via dal Milan Facendo degli insulti personali Ecco su questa cosa ragazzi io mi dissocio completamente Perché sapete che il rispetto personale delle altre persone Arriva sempre prima di tutto Altra cosa per chiudere Sempre riferita un po' a questo tema qua Poi andiamo in sigla Ragazzi non mi sono piaciute le critiche fatte A Fode Balloture Qualcuno ha fatto delle critiche Semplicemente per che cosa sembra Per che cos'è ragazzi Veloce Non bisogna mai 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 giudicare un libro dalla copertina Prima ho letto una cosa molto molto interessante Detta sentito una cosa molto interessante Detta da Mauro Suma E mi trovo concordo con lui L'anno scorso quando abbiamo preso Club Diogo Club Diogo Dalò Tutti noi abbiamo detto Ma chi è Club Diogo Dalò Chi è Diogo Dalò E invece poi durante l'anno A parte forse il periodo iniziale Poi ha dimostrato di essere un giocatore Che ci può stare al Milan Quindi questa cosa ragazzi Vale per tutti Vale per Fode Balloture Vale per tutti gli giocatori Altri prossimi giocatori che arriveranno Vale per Vlasic Vale per tanti altri Devo andare in sigla perché sono andato lunghissimo Mai giudicare il giocatore dalla copertina Mai giudicare per quello che ha il suo passato Per i numeri del passato Vediamo Perché poi al Milan Quando i giocatori vengono al Milan Trovano l'ambiente giusto E sanno fare bene le cose Poi alla fine Sbocciano in dei bei giocatori Ma questo nella vita ragazzi Mai giudicare le persone Per quello che sembrano Vi chiedo la cortesia Se anche voi pensate che sia corretto Non giudicare le persone dalla copertina Vi chiedo la cortesia di lasciare Po 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 Pollice in su a questo video Almeno oggi facciamo 700 like Per l'arrivo probabile Adesso guardiamo bene Di Tizio Caio e George Uno, due, tre Sigla Oh mi sono dimenticato di dirvi Di iscrivervi anche al canale Allora Prima una considerazione abbastanza veloce Che è questa Milan Benassera e tonali Sono le eccezioni del mercato del Milan Negli ultimi anni La società rossonera Ha deciso di rivolgersi all'estero Per fare gli acquisti Perché ci sono meno tasse Più talenti E prezzi molto più competitivi Così il Milan Si è specializzato In acquisti in Spagna Francia E Inghilterra Con operazioni Intelligenti Con senso Tecnico Ed economico Il Corriere dello Sport Ha fatto questa valutazione È un po' quello che io vi dissi Qualche video fa Perché il Milan Tanti di voi mi dicono Ma Lollo Ma perché il Milan Continua a prendere degli stranieri E non compra sul mercato italiano Perché il mercato italiano Ragazzi Ha dei prezzi Che sono completamente fuori logica Basta che un giocatore Abbia fatto una partita In una nazionale Non necessariamente La nazionale italiana Campione d'Europa Tra l'altro ricordiamolo Non soltanto la nazionale italiana Ma basta che il giocatore In Italia Che gioca in Italia Boggà Basta che abbia fatto Quattro partite bene Mezza stagione bene O basta che abbia fatto Due partite nazionali 40 milioni di euro Capite che in Francia Con 40 milioni di euro Vai a comprare Dei giocatori Fatti Finiti Di 27 anni Che che spaccano le partite Ok Per capirci Più o meno Il discorso è questo Partiamo a parlare Di quella che è la notizia Più importante di giornata E riguarda Tizio Caio E George Caio Milan in Pol Si può chiudere A 6 milioni Il Milan È in Pol Per Caio George L'offerta formulata Nella notte Al Santos È di 6 milioni Di euro Vicina La chiusura Anche qua ragazzi Ho letto L'intervista Del suo allenatore Cioè quindi Non stiamo parlando O del suo preparatore Adesso scusatemi Non ricordo Questo dettaglio Quindi non stiamo parlando Di qualcuno Che l'ha visto giocare Due volte Qua ho visto Qua su youtube Qualcuno Che faceva L'esperto Di giocatori Brasiliani E poi dice Che l'ha visto Giocare due volte Ragazzi Per dire Di conoscere Bene un giocatore Bisogna averlo visto Almeno giocare Dieci partite Bisogna capire Che tipo di giocatore Qual è il piede forte Quale non è il piede forte Come si approccia di testa Le partite Tutto Il suo allenatore O il suo preparatore Scusatemi Non mi ricordo Chi era la persona Che ha rilasciato l'intervista Ha detto proprio questa cosa Che la forza Di Caio George Non è soltanto La protezione palla Che è sotto gli occhi Di tutti E il saper calciare Di destro e di sinistro Indipendentemente Un po' come Braimino Diaz Che tra l'altro Ieri ha firmato Quindi benvenuto E ben ritornato a casa Braimino Ma dice Che la cosa La caratteristica Più importante Di Caio George È a livello mentale È uno che durante la partita Non stacca mai E qua mi viene in mente Leao È uno che durante la partita Non stacca mai Ma soprattutto È uno che mentalmente Non si fa mai abbattere E ragazzi Per chi non l'avesse ancora capito Oggi Nel calcio La testa Oggi Negli ultimi 20 anni O 30 anni Nel calcio La testa Fa il 70% Del giocatore Tu puoi essere Un giocatore fortissimo Ma senza testa Non andrei mai Da nessuna parte Come puoi essere Un giocatore mediocre O normale Ma con una testa Che spacca le chiappe Tu diventerai Un giocatore Che può stare ad alti livelli Non ho detto Che diventerai un campione Però sicuramente Potrai diventare un giocatore Che può stare ad alti livelli Mi viene in mente Gattuso ragazzi Un giocatore che comunque Tecnicamente era normale Mediocre Tendente al normale Via Diciamo così Ma con una testa Signori Che Gattuso Se li mangiava tutti Quelli che stavano intorno E questa cosa Gli ha permesso Di stare in campo Con Rui Costa Sidorff Kakà Pirlo Maldini Che più ne sta Cafu Chi più ne ha Più ne metta Capito il mio discorso Ragazzi La testa Fa il 70% Dei giocatori E il fatto che Il suo allenatore Di Caio George Dica Che una delle caratteristiche principali Di Caio Caio George Non so poi come lo chiameremo E questa qua È una questione di testa Diciamo che mi fa abbastanza piacere Quindi spero che il giocatore Alla fine venga al Milan Ultimo discorso che volevo fare Ragazzi Riguarda Vlasic Allora Ieri C'è stato un po' di casino Vlasic Rilascia questa intervista In cui dice Che praticamente Gli chiedono A un certo punto del Milan E lui dice No no Non dico niente L'intervista originale Ok Quindi quella nella lingua Non so in che lingua Gli erano fatta Penso il russo Essendo il campionato russo La traduzione Che ho visto Dalla traduzione Dal russo Presumo All'inglese Era no no Non voglio dire niente Non voglio parlare La traduzione Dall'inglese All'italiano Poi è diventata Con il Milan No no Con il Milan Non c'è niente Rimango qua Cioè quindi La traduzione Che è stata fatta Un po' In modo furbo Ragazzi Passatemi il termine Perché poi è sempre così Perché se L'intervista Lui avesse detto Con il Milan E non lo so Vediamo I click Su quella notizia Erano 100 Il fatto che dica No io Il fatto che l'abbiano tradotta Con il Milan No io al Milan Assolutamente non ci voglia andare I click saranno diventati I mille Perché tutte le persone Come me Sono andati a leggersi A leggersi L'intervista per intero Quindi ragazzi Capiamo ogni tanto Queste cose Comunque Notizia invece Di oggi Di pochi minuti fa È come riportato Da bla 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 Il CSKA Ha confermato Che per Per Vlasic Serve pagare Una clausola Il Milan Ha offerto un prestito Di 5 milioni All'anno Più diritto Quindi non obbligo Più diritto Di riscatto A 20 milioni I russi continuano a chiedere I 35 milioni Della clausola Importantissime Le parole Che adesso non ce l'ho qua Non ce l'ho qua Ah no Eccoli qua L'allenatore No Allora Non ce l'ho qua ragazzi Non me le sono segnate Comunque L'ho letto Pochi minuti fa Le parole Del procuratore Invece di Vlasic Notizia di pochi minuti fa Diceva proprio questo Che Nico Nicolas Nico Nicola Non so come si pronunci Vlasic Vuole cercare un'altra squadra Per alzare il proprio livello Di calcio E il Milan Potrebbe essere una valida Alternativa Fatemi sapere qua sotto Che cosa ne pensate Bene ragazzi Penso di avervi detto Tutto in questo video Come sempre Prima di chiudere Non vi costa assolutamente niente Vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale Qua sotto trovate il tasto Iscriviti Iscriviti E campanelle Ci mettete due secondi Non costa niente Lasciate il like Se non l'avete ancora fatto Un saluto a tutti Forza Milan Vorrei salutare le persone Che mi ascoltano in podcast E non solo qua su 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 Youtube Ma anche le persone Che mi ascoltano in podcast Mentre stanno correndo Quindi mi raccomando ragazzi Forza e coraggio E non smettete di correre O di fare le vostre camminate Un saluto a tutti Forza Milan Ma soprattutto Vada via e chiul inter Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao